Non sono trascorse neanche 24 ore dall'ingresso dei nuovi concorrenti nella casa del grande fratello, eppure sembra essere già nata un'intesa speciale tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo aver fatto un bagno in piscina, i due GFini hanno deciso di spostarsi in sauna, e lui inizia a farle i complimenti rivelando di aver percepito sin da subito un'affinità con l'ex velina di Striscia la notizia. Ciò che il modello apprezza maggiormente della ballerina è la sua capacità di stare al gioco e la voglia di divertirsi. Dal canto suo, anche Shaila dice di aver riscontrato una certa affinità con Lorenzo. Tuttavia, ad un certo punto scoppia a piangere dicendo di essere preoccupata per il suo percorso. Non so quanto riuscirò a far percepire di me all'esterno, anche se sono consapevole del mio valore e delle mie capacità. Spolverato la consola dicendole che deve aprirsi e non porsi mai dei limiti. E intanto sui social gli shippers sono già al lavoro.